E salve a tutti e vento un nuovo video, in questo video vi porto a voi, spero di cominciare il video, vi dico di iscrivetevi al canale, lasciate un like e adesso partiamo con il video. Oh ragazzi, finalmente, finalmente oggi sono, oggi faccio io l'impostore, vediamo allora dove possiamo andare? Prendete tutto io? No, ci sono tutti. Almeno devo trovare, oh ragazzi, ho un'idea, dove possiamo andare? Allora, è chiuso? Salutami, 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 defa, ups, non lo so. Ok, vediamo cosa dicono. Admin, chi è admin? No, nessuno. Tutti votano, io voto a caso, una, ups, cioè mi hanno beccato, mi hanno subito beccato, shit. Oh, finalmente, di nuovo l'impostore. Ah ragazzi. Finalmente. Finalmente. Tutti hanno capito. Chi sono io? Tanto. Benissimo. Intratto. Ha fatto. Adesso. C'è cosa faccio? C'è me ne vado, ecco. Giù, ci sono tutti. Mi fico. Ops. Mi sono uscito, non trovo nessuno, il problema è quello, tanto sapete che mi piace uccidere le persone in questa zona, o nella zona del secret. Mettiamo questo, benissimo, faccio finta di fare il task. Ho spento l'elettricità, le edizioni. Muori, maledizione. No, qui non passa, chiudere a nessuno. Tu vieni qua. Seda, seda. Benissimo. Seda, seda. Seda, seda. Seda. Seda, seda. Non capisce chi l'ha fatta. Vado qua. Quella parte. Dai. Vieni da. Finalmente. Ragazzi. Qualcuno dice che è stato giallo e un'altra dice che è stato il rosso. Sì. Sì. Ma non è vero se sono io, se sono io l'impostore. Ma loro non hanno accorto, ecco. Tutto questo. Vabbè, a me sembra che ci mancano due. Vabbè, io uccido davanti a tu. No. Ragazzi, adesso ho perduto. Avevo scritto che chi è. No, uno dice che è stato arancione. Tanto io voto. Tanto, nessuno ha capito. Vabbè, io uccido davanti a tutti e a tutti. Vabbè, io uccido davanti a tutti e a tutti. Isto qua. Come voi. Sei. Via. Ucciso, ucciso. Ok. Ok. Va benissimo. Va benissimo. Io non sono stato l'impostore. Maledetto. No. No. Abbiamo vinto. Un po' che... Ok. 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 Vado comunque nella... Nella estanza di telecamera. Camera. Ok. Mmm. E... E stanno dicendo che è nero. Un'altra. Un'altra da c'è blu. Ok. Done. Ok. Sì. Io voto nero. Amici. Cioè. Ok ragazzi. Hanno votato. Alla fine. Un'altra. Eh. Ok. Benissimo. Sì parte. non cambia nulla non cambia nulla nulla non cambia nulla sì no non cambia nulla 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 non cambia nulla